Assessore Gravalli, anche lei oggi qui a Milano, alla riunione di tutti gli amministratori della Lega Nord, ha partecipato al tavolo dell'economia, quali sono le proposte emerse? Tante, però quello più importante è un intervento shock, cioè arrivare ad azzerare i ticket in sanità. Si può fare, lo vogliamo fare. Poi a sostegno delle imprese, diverse iniziative per favorire l'investimento degli enti locali, piuttosto che intervenire in aiuto ai confidi di secondo livello, alle controgaranzie, insomma diversi interventi, però diciamo la cosa più importante a sostegno di famiglie e generare di tutto il sistema è questo. Lombardia sarà più facile grazie all'applicazione di costi standard? Lombardia, ma non solo, in tutte le regioni del nord, proprio l'applicazione di costi standard consente di fare meglio con le stesse risorse e quindi ce la possiamo, ce la dobbiamo fare, lo vogliamo fare. Ovviamente non si potrebbe con la normativa vigente, ma chi se ne frega, noi lo facciamo. A proposito di risorse, lei è anche il coordinatore degli assessori al bilancio delle regioni all'interno della conferenza delle regioni. C'è stato nei giorni scorsi tra lei e il ministro Giovannini un botta e risposta su questa gestione. Tutto chiarito? Tutto chiarito sulla carta, a parole, perché lì il tema è molto semplice. I ministri in generale, quindi anche il ministro del lavoro, siccome non hanno più soldi per fare le proprie politiche, vogliono usare i fondi comunitari territoriali delle regioni per fare le loro politiche. E così, ad esempio, il ministro Giovannini voleva usare i fondi delle regioni, che le regioni usano a sostegno delle politiche giovanili, i fondi europei, per farsi una sua azione a sostegno dei giovani. Quindi è tutto qua. Semplicemente ci voleva portare via dei quattrini. Noi abbiamo detto massima collaborazione su queste politiche, ci mancherebbe altro, però il governo lo faccia con i suoi soldi, ci mette i suoi soldi, noi lo facciamo giustamente con quelli che ci competono. L'oproviso di soldi governo, in questi giorni il Consiglio dei Ministri, tra le varie misure, ha dato il via libera al rientro dei capitali dall'estero. Con questo si dice che si può eventualmente riuscire anche a abbassare un po' le tasse per le imprese. Lei cosa ne pensa? Vedremo il testo. Di fatto è condono. E' solo che quando l'abbiamo fatto noi ci hanno messo in croce perché abbiamo fatto un condono. Adesso che lo fa il governo delle larghe intese lo chiamano rientro dei capitali. Così. Non ce l'hanno animato in questo caso, quindi non è uno scudo come replica. Se mi tolgono le sanzioni e le sovratasse mi fanno un condono. Un'ultima questione è la riduzione dei costi della politica. Tra l'altro nel bilancio che è stato approvato a fine d'anno è passato anche un suo emendamento per ridurre le spese, anche il numero dei personali di 200 unità in una regione di Lombardia. C'è stato anche un tavolo sulla riduzione dei costi della politica. A che punto siamo? La Lombardia, già oggi parlo da Lombardo, è la regione che costa in assoluto meno. Considerando sempre il presupposto che la democrazia sia un costo. Certo, quando c'era Mussolini costava meno, ce n'era uno solo, ma non è andata poi tanto bene. Partendo dal presupposto che la democrazia sia un costo, è giusto che questi costi siano il più basso possibile. La Lombardia oggi costa 7 euro per abitante, è la meno della metà della media nazionale. Quindi siamo già ampiamente efficienti, ma vogliamo migliorare ancora. Per quello abbiamo fatto tutta una serie di iniziative e di proposte, per esempio la riduzione dei dirigenti, del numero dei dirigenti. Questo ha un impatto notevole, 5 milioni di euro di risparmio. E poi ultimamente abbiamo anche proposto un tetto ai manager delle varie partecipate. C'è già un tetto nazionale, noi diciamo ok, quello meno 10%. Come al solito siamo all'avanguardia in tutto il paese. Il vitalizio è più complicato perché lì si tratta di diritti acquisiti e quindi c'è il rischio che qualcuno faccia ricorso e lo vinca, un rischio abbastanza elevato. Anche su quello bisogna dire la verità, il sistema Lombardo è quello più equo. Diverso, la situazione per esempio dell'Asio, dove il vitalizio lo si prende a 50 anni e fa ridere dopo solo un giorno di attività. Mentre da noi bisognava fare una legislatura. Era già un sistema molto più normale, equo. Ci ho detto, il Consiglio, perché questa è prerogativa del Consiglio, la Giunta sta a guardare da dei consigli. Il Consiglio sta lavorando, farà una proposta, bisogna poi vedere se non viene impugnata e non vincono i ricorsi, quelli che vengono danneggiati.